mettiamoci al lavoro perché c'è tanto tanto da fare allora primo 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 lavoro cominciamo questa è la ho applicato ho dipinto la campana perché la campana è un era di colore ruggine e con la love paint ho decorato la base e l'ho decorata bianca ho lasciato il fiocco del colore ruggine originale perché mi piaceva l'idea di staccare tra la base e il fiocco e sono andata a realizzare dei fiori dei boccioli che adesso vi farò vedere per metterli appunto innestati all'interno del fiocco guardate li ho inseriti nella cioffa in modo da da proprio arricchire questa questa parte di fiocco decorativo presente su quindi prima di farvi vedere la realizzazione di questi fiori tridimensionali vi voglio parlare del decorativo che ho realizzato sulla campana ho creato una composizione floreale come vedete il velo velo già detto durante altre durante altre live e dovete assolutamente rispettare dei parametri compositivi questo non mi stancherò mai di dirvelo perché perché io vedo tanti lavori realizzati ma l'acquisizione di questo muld che è composto da fiori foglie e stegli è realizzato in questo modo perché perché voi dovete assolutamente cercare di rispettare una una struttura compositiva struttura compositiva significa che dovete dare guardate mentre vi vi spiego voi cercate di osservare questo cercate di osservare questo e è stato realizzata questa struttura compositiva mettendoci su dei fiori solitamente utilizzo molto moltissimo creare un effetto sviego quindi in non perché un effetto sviego che dà una sensazione di naturalezza perché perché quando parliamo di natura parliamo di elementi e compositivi molto che danno una sensazione di non di rigidità quindi mi raccomando ragazze vi ho spesso spiegato questo quando andate a creare una composizione floreale anche sull'anzina di un mobile non soltanto su un complemento d'arredo come in questo caso anche su un mobile cercate di creare sempre o un angolo quindi decorando la parte superiore ad angolo e la parte inferiore ad angolo oppure cercate di piazzare il decoro e realizzare solo un decoro centrale e quindi tipo un effetto medaglione oppure realizzate un decoro diagonale in modo da partire in alto con i fiori più grandi e man mano andare decrescendo con le foglie e i boccioli più piccoli queste sono le tre regole compositive della decorazione floreale quindi ripeto o immaginate di dover decorare un'anta un'anta di di un armadio o un'anta di un mobiletto stiamo parlando di un supporto liscio e stesso concetto vale per qualunque piano di tavolo qualunque cornice di quadro quando parliamo di supporti lisci allora avete il vostro stampo il vostro mood che cosa fate partite dal fiore grande applicate le foglie in questo caso il fiore ha già le foglie vicine e quindi in questo caso lo stampo vi spiega già come le foglie devono essere applicate ma se voi qualora voi dovesse andare ad acquistare questo che lo stampo in the garden qui su questo stampo la composizione floreale non è formata e quindi voi dovete comprendere bene come realizzare la composizione allora che cosa ho fatto sono andata ad applicare la rosa rosa grande rosa media rosa grande quindi alternanza grande grande medio vicino alla rosa intorno sono andata ad applicare le foglie queste foglie non erano attaccate alla rosa sono andate ad applicarle io sono andata a realizzare le foglioline le ho prese ho messo la colla quando ancora erano morbide le ho avvicinate al fiore e sono andate ad applicarla creando quindi tutto nel contorno un'influorescenza un fogliame che crea perché perché immaginatevelo in natura e pensate come la rosa in natura sia circondata da tante foglioline quindi foglioline grandi e foglioline piccole quindi cercate quando realizzate una composizione di pensare sempre al prodotto in natura grande medio vicino alla grande sempre la media o vicino alla grande sempre la piccola non accostate mai due rose della stessa dimensione perché sembrerebbe o se lo fate portate sempre a compimento l'opera andando in gradazione di misura perché è molto importante che le dimensioni siano rispettate quindi partiamo da un'anta angolo angolo quindi angolo in alto a sinistra angolo in basso a destra partite vi faccio uno schema partite sull'angolo vi prendo la tavoletta facciamo finta che sia una un'anta partite sull'angolo qui con la col fiore grande poi foglie 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 bocciolo bocciolo angolo in basso qui questo è l'angolo in alto angolo in basso opposto angolo fiore grande foglioline intorno solitamente le foglioline vi consiglio di usare una una in basso un in alto e una sotto quindi fate questo questo effetto compositivo se volete vi realizzerò giovedì prossimo uno schizzo e su carta dove vi farò vedere gli elementi e decorativi compositivi in modo da poter avere molto chiaro il concetto della decorazione non riesco ragazzi a leggere i vostri messaggi ditemi se avete bisogno di chiedere qualcosa ditemi se ci siete benissimo quindi vi realizzerò ditemi se lo volete con un sì in modo che possa comprendere che siete collegate e su un foglio vi realizzerò le tre regole compositive della decorazione quindi angolare e vi spiegherò come continuatemi a commentare composizione centrale e la composizione centrale è importantissima che abbia delle regole specifiche e ve ne parlerò composizione diagonale per poter creare un effetto molto molto realistico oggi parliamo di composizione diagonale perché come avete visto sulla mia campana ho realizzato una composizione diagonale sono partita dal fiore grande ho contornato il fiore di foglioline ho continuato con un fiore medio sono andata intorno ancora con delle foglie grazie melania e ho chiuso con un altro fiore in questo caso grande perché perché avevo sulla campana una superficie molto larga se invece vi trovate su una superficie guardate vi faccio vedere qui sulla campana io avevo una superficie larga quindi se io avessi messo grande medio e piccolo qui in questo punto avrei avrei avuto un vuoto visto che questa diagonale la volevo riempire tutto che cosa ho deciso di ciao che piacere dal velgio ciao cara allora ho appunto deciso di riempire questa parte in basso per appunto riempire l'effetto compositivo che cosa ho fatto poi ho preso nei punti di vuoto intanto creando questo diagonale che cosa è successo creando questo effetto diagonale mi sono ritrovata con dei punti di vuoto cioè questo e questo avendo questo questi due punti di vuoto guardate che cosa ho fatto sono andato a prendere un foglio di transfer i nostri meravigliosi transfer uccellini questi sono i beard li trovate presenti sul sito anche se nel kit campana mezzo foglio mezzo guardate ho preso un foglio intero l'ho tagliato in diagonale perché per non per far sì che il kit non acquisisse un costo troppo elevato ho deciso appunto di tagliare il foglio a metà in diagonale guardate il foglio in realtà è questo e lo trovate in vendita promolive al costo di 15 euro però qualora voi voleste acquistare il kit campana all'interno del kit che cosa ho fatto ho preso il foglio senza deturpare il disegno infatti sono andata a lasciare le parti dei fiori e dei uccellini per intero e ho scorporato mezzo foglio che cosa ho fatto sono andata a spezzettare quindi ho tagliato ho tagliato il ramo e ho prelevato questa parte uccello e foglia poi mi sono tagliato quest'altro pezzo uccello e foglia e quest'altro pezzo solo floreale di rami sono andata ad inserirlo innestandolo all'interno e quindi mettendolo proprio al ridosso dei fiori sono andata ad inserirlo un pezzo qui un pezzo qui e un pezzo qua creando che cosa sono andata a riempire i punti di vuoto creando un vero una vera e propria tecnica compositiva mista quindi unendo sia le parti in rilievo quelle realizzate in pasta sia le parti invece in decalco cioè fatte con il transfer creando un bellissimo effetto di sbalzo di dimensioni quindi creando un effetto dimensionale molto particolare poi non so se riuscite a vederlo ditemi se lo vedete che cosa ho realizzato ho realizzato questi piccoli boccioli quindi uno e due ditemi se riuscite a vederlo ragazze questi boccioli in realtà sono dei boccioli chiusi quindi non sono dei boccioli usciti dallo stampo adesso in questo istante vi farò vedere come sono riuscita a realizzare ditemi se notate il fatto che ci sia un'ulteriore tridimensionalità guardate qui in questo punto proprio il fiore si solleva qui anche qui il fiore il fiore si solleva sono andata a realizzare un'ulteriore tridimensionalità quindi innestando sotto al mio sotto al mio fiore sono andata ad innestare sotto al fiore piatto sono andata ad innestare il bocciolo quello più più alto se Loredana può venire un attimino ho bisogno allora i fiori quelli piatti che mi avete fatto morbidi questa sera allora che cosa ho fatto ho preparato all'interno dello stampo ho preparato delle rose diciamo che lo potete fare in due modi grazie lo potete fare o utilizzando i mold che hanno un costo di 19,50 euro oppure acquistando questi che sono un tris di stampi dal costo di 10,50 euro con cui potete realizzare la forma solo esterna la differenza tra il mold e gli stampi e i diciamo in queste formine sono date dal fatto che mentre il mold lo avete potete realizzare sia la decorazione piatta che la decorazione quella tridimensionale questa potete acquistarli solo per realizzare la parte esterna cioè per realizzare il taglio del vostro fiore quindi vi faccio vedere così parliamo e diciamo tecnicamente in maniera veramente diciamo oltre che la tecnica anche la pratica vi faccio vedere praticamente quello che ho fatto allora sono andata a realizzare delle rose o rose o margherite potete utilizzare o uno o l'altro e anche questo fiore che ricaverebbe da questo bellissimo mold che è nuovissimo con cui ho completato la realizzazione di questo che si chiama Wilderness Rose che cosa ho fatto? ho realizzato questi fiori allora abbasso un attimo la telecamera perché vi faccio vedere che cosa faccio allora prendo il fiore e metto sotto al fiore tutte le dita tutte all'interno inizio ad inserire della colla la nostra colla in questo caso sto utilizzando la colla forte quella nel barattolo quadro perché è leggermente più resistente quindi se dovete realizzare questo tipo di fiore tridimensionale vi consiglio di non utilizzare questa in bottiglia ma di utilizzare la colla forte questa in barattolo perché perché quando voi andate a chiudere a chiudere questo questo fiore che cosa fate? abbiamo bisogno di un collante molto molto efficiente che ci possa dare la possibilità di incollare in maniera abbastanza importante la struttura interna del fiore fatto questo guardate ripeto il movimento così lo potete vedere un attimo solo ve lo faccio rivedere prendo la margherita in questo caso metto la colla all'interno stringo, strozzo il fiore e realizzo il fiore eccolo qua che cosa ho fatto? guardate quattro dita quattro dita strozzo stringo in maniera molto efficace perché dovete ottenere questo effetto questa parte di sotto la togliete questa parte in eccesso la eliminate quindi andate a creare manipolando una punta questa punta questa punta che cosa farete? la andrete ad innestare sotto al fiore cioè nel momento in cui ve lo faccio vedere ve lo faccio vedere aspettate un attimo ragazze nel momento in cui ve lo faccio vedere sul retro così vi rendete conto fiore piatto prendo il fiore ci applico la colla ancora bagnato mi raccomando la pasta deve essere morbida perché altrimenti non riuscite a maneggiare bene il tutto appoggio prendo il fiore che può essere una rosa una margherita qualunque tipo di fio lo appoggio prendo il mio bocciolo una volta strozzato che cosa faccio? vado a stringere ed apro all'interno in modo da creare come un in modo da creare questa corolla la colla non va assolutamente diluita deve essere lasciata così come la trovate all'interno del contenitore perché va diluita solo ed esclusivamente quando si lavora sulla carta riso altrimenti la colla non la diluite mai fatto questo andate a mettere sulla punta di sotto del fiore la colla sotto e sopra ragazze sotto e sopra perché? perché la parte di sotto andrà sollevo la rosa la parte di sotto andrà ad incollarsi sulla sulla base e la parte di sopra andrà nella vicino ad incollarsi sulla sulla superficie quindi sotto e sopra ho dimenticato di mettere anche sulla parte sottostante qui sulla corolla sottostante la colla e voi non lo fate quindi ho sollevato leggermente quella piatta questa qui e sono andata ad inserire praticamente il bocciolo appoggiandolo sopra creando ditemi se riuscite a notare creando un effetto veramente compositivo infatti questi petali che si sono andati a sollevare creano anche essi come se andassero a completare la 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 feritura la il petalo del fiore che ho creato in tridimensionale quindi mettete colla abbondante tra i due fiori qui tra un fiore e l'altro sia sotto che sopra anche nella parte superiore mi raccomando in modo che queste parti che vengono sollevate spingete con il polpastrello e unitele e come se la parte di questa rosa andasse a completare come se andasse parte di questa rosa a completare il bocciolo che sono andata a creare guardate ditemi ragazze se riuscite a notare questa questo questa questo inserto compositivo guardate allora vedete quindi la parte piatta del fiore è andata ad innestarsi nella parte questa del bocciolo come ripeto ve lo ripeto ancora perché è importantissimo che voi lo comprendiate ho preso il bocciolo lo stretto con quattro dita così così quattro dita lo rifaccio rifaccio il movimento questo è il petalo metto la colla all'interno metto la colla all'interno ve lo giro guardate uno due tre quattro faccio come fosse un pizzicotto lo unisco così 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 guardate lo unisco così stringo elimino la parte in eccesso strozzo elimino la parte in eccesso guardate con i polpastrelli creo appunto schiaccio e creo appunto questa punta questa punta sarà quella che andrà ad innestarsi sotto al fiore quando andrò ad incollarlo in questo modo quindi colla qui su questa parte colla su questa parte e bacio bacio uno con l'altro lo innesto insieme e questi due fiori uno piatto e uno tridimensionale diventeranno un tutt'uno ditemi ragazze se è tutto chiaro in modo che io possa capire se appunto state riuscendo a seguirmi quando fate questo movimento scendo un attimo la telecamera quando fate questo movimento che cosa succede che si vanno a creare delle crepe allora se la pasta è molto 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 morbida quindi lo fate quasi nell'immediato non dovrebbe succedere però qualora anche dovessero crearsi delle piccole crepe per diciamo creare uniformità sulla base e quindi eliminarle basta semplicemente che inchingiate il pennellino nell'acqua e quindi la applicate così cioè dovete levigare la superficie con l'acqua l'acqua che cosa fa amalgama la colla alla pasta e quindi diciamo permette che la colla si distribuisca in maniera perfetta quindi prima un po' di colla e poi un po' d'acqua tutte queste tutte queste crepe si sono già andate a levigare e fate conto che sul sulla e sul nello stile che noi utilizziamo è molto carino anche se restano delle piccole crepe perché quando poi andrete ad applicare la patina comunque questa patina si andrà ad innestare all'interno delle crepe quindi comunque renderanno un effetto molto molto particolare molto bello e adesso ve lo farò vedere con il pezzettino che ho tolto da sotto realizzo una goccia ecco ve la faccio vedere all'incontrario fate conto come se fosse una goccia quindi una parte in alto un po' più grossa e la parte in basso un po' più schiacciata schiacciatela così riducetela realizzatela molto molto sottile una volta una volta che avete appunto fatto questo elemento decorativo potete realizzarne alcuni alcuni li potete lasciare così perché sono già molto molto belli sembrano veramente dei fiori di pesco che stanno sbocciando quindi qualcuno lo potete lasciare così fatto in questo modo qualche qualcun altro potete ancora ulteriormente arricchirlo prendendo il nostro famoso stecchino per spiedini che abbiamo utilizzato ieri sera creando un una piccola incisione all'interno così quindi create una base un supporto e prendete il vostro pistillo inserendo sempre un pochino di colla mi raccomando perché è la colla che poi rende il tutto molto più resistente e molto più forte e andate ad inserire il pistillo all'interno così così guardate che bello quindi qualche fiorellino che volete lasciare un attimino più aperto lo potete realizzare con il con il pistillo poi quando lo andremo a decorare e a dipingere verrà fuori ancora di più perché realizzeremo il colore allora la pasta è una pasta già pronta è una pasta ceramica sembra abbiamo anche la pasta porcellana ma in questo momento non è presente sul sito in quanto l'azienda non è disponibile però abbiamo la pasta modellabile ceramizzata che è quella che utilizziamo sia sui mobili sia sui complementi e potete quindi realizzare questo lavoro con questa pasta che è una pasta già pronta ha un costo proprio irrisorio in quanto ha il prezzo di solo 5,50 euro un panetto da mezzo chilo e la troverete nei kit da 250 grammi e abbiamo anche il panetto da chilo al costo di 9,50 euro sono delle paste meravigliose e danno un effetto straordinario in quanto una volta che induriscono diventano talmente rigidi eccoli qua che sembrano diciamo dire gesso e dire molto dire gesso e dire una parola molto scarsa scadente sembrano proprio di ceramica va bene ragazze potete anche realizzare realizzando appunto queste roselline potete anche realizzare un microforo appendere un cordoncino e sotto mettere giù una piccola nappina e realizzare con questi fiori e con questi decorativi potete realizzare anche dei gioielli per i vostri lecavi dei vostri armadi quindi come vedete vi do sempre delle idee carine come ieri l'idea dei segnali delle uovine segnaposto quindi ripeto le realizzate morbide prima che si induriscano con lo stecco fate un pochino appendeteci un bel nastrino metteci dietro una una nappina e utilizzateli per decorare le chiavi dei vostri armadietti o dei vostri segreteri va bene ragazze fate con gli uccelli fateli con fateli con con i cuori fateli con con le foglie lo potete fare con tantissimi elementi con con il muro che avete acquistato quindi senza necessariamente dover andare a comprare la rosa l'idea dei portachiavi è molto interessante perché noi in negozio abbiamo tantissima richiesta e vi prometto vi prometto che a brevissimo metterò anche le nappine in kit in modo che voi possiate acquistare il kit con magari sei nappe e potete appunto realizzare questo progetto essendo un progetto molto semplice non spreco una serata una live per parlarvi di questo però è un'idea così a bruciapelo che ho deciso di darvi allora continuiamo sono già le 19.20 quindi dobbiamo andare veloci andare in fretta vi faccio vedere un'anticipazione del lavoro che andremo a fare giovedì prossimo sulla live di giovedì dove vi farò vedere una tela realizzata con questi fiori allora adesso vi faccio vedere invece l'utilizzo di questi questi sono bellissimi il kit dati tre pezzi ha il costo di 10.50 euro e questo no la notte non dormo ragazze sono mi riempio da arte anzi mentre dormo penso quindi perché mi viene tutto così tanto facile spontaneo vi dicevo il sì le campane sono in vendita ce ne sono pochissime ce ne sono tre grandi per favore Raffaella mettimi su misure e prezzi nei miei commenti in modo che possano vedere altrimenti sto qui solo a parlare di questo e ne abbiamo solo tre due una piccola due medie e tre grandi perché con la live di ieri sono state già acquistate e quindi ne abbiamo già vendute una bella quantità ve la giro così chi si sta collegando adesso la può vedere è finita è realizzata allora questo kit ha il costo di 10 euro e 50 e vi faccio vedere come lo dovete utilizzare chi magari non può acquistare il muld perché magari in questo momento non può affrontare una spesa di 20 euro con solo 10 euro e 50 può acquistare questo che è bellissimo adesso ve lo faccio vedere allora ho preparato con la pasta ceramizzata una sfoglia ho messo sotto sempre il va bene Giulia una te la tengo ho messo sotto ho messo sotto un foglio di di carta di cartoncino con del talco mi raccomando mettete tanta base di talco perché altrimenti quando stendete la sfoglia la pasta ceramizzata si attacca alla superficie quindi mettete o lavorate su un piano in vetro oppure lavorate su un piano in plastica tipo quelli con i vassoi quelli che si usano per i dolci o per la pasta oppure se estendete su un cartoncino mi raccomando mettete sempre sotto del talco in quanto il talco è importantissimo per è come se fosse la farina per la nostra pasta per la nostra pasta per la pizza per il pane o per la nostra pasta frolla quindi mi raccomando sostituite la farina con anche se in realtà potreste anche mettere la maizena ed è carinissimo perché la maizena penso che in casa ce l'abbiate tutte lo stesso utilizzo che facciamo con l'amido di maiz sarebbe ragazze la stessa la stessa lavorazione che facciamo con il talco lo potete realizzare con l'amido di maiz e quindi tranquillamente potete andare a realizzare questa lavorazione in maniera molto semplice senza dovervi imbattere in prodotti troppo strani stampo vado a premere premo fate i biscotti fateli fateli e fare ai vostri bambini fateli fateli divertire premete su premete e fate i vostri biscotti eccoli qua fate divertire i vostri piccoli le vostre bimbe che sono a casa in questo tempo così triste prendete la misura media e la imprimete schiacciate forte così spingete mi raccomando tagliatelo questo è come se fosse un tagliapasta se avete già in casa delle formine a forma di fiore le potete tranquillamente utilizzare fate conto però che sono belle grandi questa ha un diametro di 10 cm la grande ha un diametro di 13 forse anche 14 e la piccolina è un diametro di 7-8 cm quindi devono essere belli grandi se volete realizzare dei fiori grandi vedo lì ti diverti tu va bene però se avete voglia di far lavorare le vostre bimbe le vostre ragazze potete assolutamente e farlo tranquillamente insieme a loro allora un taglio 3 3 tutte e 3 le misure 1 2 3 la pasta in eccesso naturalmente non si butta niente mi raccomando perché adesso con la pasta in eccesso vi faccio vedere la realizzazione di una foglia allora prendete lo stampo quello grande stampate stampate una parte un petalo solo perché per la foglia in realtà ve lo avvicino ve lo avvicino così lo vedete meglio per la foglia mi basta guardate che stampiate un solo petalo uno vedete questo questo è un solo petalo cioè per farvi capire uno di questi va bene poi cosa fate prendete un taglierino o un coltello in questo caso io ho adesso portate di mano una spatolina tagliatela in questo modo uno e due come se idealmente stesse tagliando una una punta guardate ho realizzato un cono gelato fatto questo voi dallo sfrido avete già realizzato la vostra foglia e vi faccio vedere dove la andrete a mettere poi mi preparate un'altra foglia però più piccolina sempre dalle parti diciamo che cadono quest'altra foglia fate molta attenzione perché questo è questo passaggio molto molto importante tagliatelo sempre in punta quindi con il grande fate la foglia grande con il piccolo fate la foglia piccola vi viene fuori quasi come fosse un cuoricino va bene che cosa andiamo a fare con questo mettiamo su della colla scusate mettete su della colla sulla parte in alto e giratela guardate giratela giratela e giratela vediamo se indovinate a che cosa servirà questo a che cosa servirà questo sì giusto Laura 10 euro e 50 la campana grande ha un diametro di 30 e costa 18 euro e 50 la campana media ha un diametro di 25 ed ha scusate l'altezza di 25 e costa 15 e 50 la campana piccola ha un'altezza di 20 centimetri e costa 12 e 50 però se me lo scrivi nei commenti per me è ancora più semplice anzi per le ragazze che vorrebbero acquistare vediamo che cosa serve vediamo a che cosa serve bocciolo bravissime allora con grazie Lori la mia assistente che ha dato le misure e i prezzi non diametro ma altezza mi raccomando e con le rimanenze con le parti che vengono fuori tagliatevi questi che saranno tutti i boccioli la campana gigante che ho qui alle spalle purtroppo sono andate in esaurimento già con la live di ieri quindi mi dispiace ma non ne abbiamo più a disposizione forse una sola ma devo un attimo vedere comunque la campana media fate conto che è già un'altezza di 30 quindi già ha una bella dimensione allora fogliolina piccola bocciolo piccolo brava brave bravissime boccioli all'interno del fiore quindi fogliolina piccola bocciolo piccolo foglia grande bocciolo grande vado ad arrotolare ed ho già realizzato il mio bocciolo quando arrotolo ho qui questa punta non la tagliate ma piegatela piegatela e avete realizzato in un battibaleno sia il bocciolo che la foglia guardate guardate ditemi se vi piace giratela un attimino quindi in un solo gesto ho realizzato il bocciolino e la foglia bocciolino non non addentro nella spiegazione di questa tecnica perché giovedì prossimo vi farò vedere il completamento di questo lavoro perché è un lavoro molto particolare e molto importante quindi vi farò vedere gli innesti dei boccioli e anche gli innesti delle foglie e poi vi farò vedere anche come potete realizzare delle altre foglie delle foglie anche diverse delle foglie grandi visto che non abbiamo la forma della foglia ve la faccio realizzare ve la farò realizzare io allora continuo l'argomento e vi faccio vedere fiore grande colla fiore medio colla mi raccomando utilizzate la colla forte e non quella morbida per attaccare non quella diciamo nella bottiglina perché abbiamo bisogno di avere una colla abbastanza resistente la pasta l'ho stesa subito prima della live ragazze perché se la stendete la mazzina per il pomeriggio poi quando la andate a modellare succede che vengono fuori tutte le crepe quindi mi raccomando la pasta sempre morbidissima che cosa faccio stringo strozzo strozzo ecco qua in un attimo il fiore è fatto ditemi se riuscite a vederlo allora quando vado a strozzare i tre fiori che cosa faccio poi con le dita cerco di allargarli un attimino giovedì prossimo vi farò vedere tutti 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 i segreti di realizzare questi fiori tridimensionali e perché giovedì prossimo perché ci sono diverse cose che vi devo spiegare quindi tutti ci sono dei piccoli accorgimenti che vi serviranno per comprendere come andare a rendere questo fiore a strutturare questo fiore e quindi a dare corposità e struttura quindi mi raccomando dovete assolutamente continuare a seguire la live di giovedì prossimo perché questa sera non vi dirò altro vi dirò solo l'ultima cosa giovedì prossimo vi farò vedere anche come dovete innestare i pistilli all'interno e come potete inserire anche questo punto luce perché questi fiori e questo punto luce sono l'omaggio che regalerò questa sera e regaleremo tre punti luce questi fiorellini che sono in omaggio nel kit campana perché questi fiori poi li andremo ad applicare sulla campana e vi farò vedere subito quindi avrete in omaggio non i pistilli ma i punti luce poi se qualcuna di voi non amasse particolarmente i punti luce e volesse invece i pistilli l'importante è specificarlo magari nei commenti dove ci sono alla fine dell'ordine dove ci sono i commenti allora vi giro un attimo il fiore utilizzate queste spatoline che troverete anche sul nostro sito e vi giro il fiore ve lo faccio vedere dal retro che cosa è successo che qui stringendo molto si sono create delle dei buchini e delle crepe allora io che cosa faccio prendo la colla questa colla nel barattolino quadro e la vado a innestare nella parte sul retro nella parte retrostante innestando la colla dietro che cosa faccio non faccio altro prima di tutto di rinforzare la base del petalo che potrebbe spezzarsi e quindi applico questa colla e spingo se il petalo vi si dovesse spezzare in questo modo basta semplicemente mettere la colla mettere sul pennello un po' d'acqua e levigare quindi spingete spingete o con una spatolina tipo questa più piccola perché questa è troppo grande con la spatolina spingete e quindi levicate oppure con con il retro del pennello oppure con le mani spingete e dove si creano delle aperture delle lesioni le chiudete quindi non vi spaventate se i vostri petali si spezzano perché inserendo la colla e levigando così con le dita le parti di petali che si spezzano le potete tranquillamente rincollare guardate le parti sottostanti sempre levicate in modo da farle uscire belle lisce quindi ho realizzato questo questo fiore semplicemente unendo le tre misure del dello stampo naturalmente unendo le tre misure sono riuscita a realizzare un fiore bello grande se volete realizzare dei fiori leggermente più piccoli usate o i mold quindi tiratevi fuori queste roselline come ho fatto prima oppure invece di usare tre passaggini usate due che cosa faccio adesso approfitto del fatto che il fiore guardate qui l'ho già applicato in precedenza quindi lo trovate già bello e pronto piazzato approfittando del fatto che il fiore è ancora morbido giro la campana scendo un attimo questo fiocco perché in ferro quindi lo posso un attimino spostare come voglio quindi la spingo verso giù prendo il fiore lo appoggio nel punto in cui lo devo andare ad innestare e lo spingo con le dita guardate guardate ragazze ditemi se vi piace guardate ditemi se vi piace ragazze voglio un vostro feedback ditemi datemi un cenno guardate perfetto allora avete visto ho praticamente sono andata a realizzare uno due qui sotto ho messo un bocciolino piccolo qui ho messo un fiore più piccolino qui ho messo un altro bocciolino sono andata a realizzare tutto qui me ne manca uno e vado ad innestare quello che ho fatto precedentemente cioè il bocciolino più piccolino lo vado ad innestare qui dove ho questo vuoto quindi alterno fiore grande fiore piccolo e poi prendendo questi piccoli boccioli li vado a inserire sotto e creo quindi all'interno di questo fiocco meraviglioso che c'è qui sulla mia campana creo appunto queste decorazioni quindi contrastando con questa corda molto 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 grezza vado ad innestare tutto nell'intorno della campana questa inflorescenza e la vado ad arricchire completamente mi raccomando però non dimenticate che io non ho messo la colla e quindi che cosa sto facendo aspetto che il fiore prenda la sua posizione aspetto che il fiore secchi e poi una volta seccata il fiore vado a sollevarlo metto una bella quantità di colla a caldo oppure di questa colla extraforte nel barattolino questa faccio una bella collata di colla e poi una volta che si è indurito quindi aspettando aspettando che il fiore sia indurito almeno un paio di giorni poi lo vado a fissare quindi non metto la colla quando il fiore è ancora morbido o meglio se utilizzate questa la potete già mettere se invece decidete di incollarlo con la colla a caldo la potete incollare quando allora dato che questo fiocco ha una forma tutta strana guardate che io il fiore lo inserisco morbido perché deve innestarsi all'interno dei buchi quindi io spingendolo con molta delicatezza riesco ad innestarlo e a farlo entrare se invece io andassi ad applicare un fiore già indurito non 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 farei altro che andarlo a spezzare in quanto il fiore indurito non mi darebbe la possibilità di 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 posizionarlo bene e di farlo entrare all'interno del dell'interno degli spazi poi ho preparato dei fiorellini con il con il questi blossom che sono i fiori di pesco che sono il kit dell'uovo che ho fatto vedere ieri e della scorsa settimana questi li ho invece lasciati indurire cosa farò li andrò ad incollare con la colla a caldo sulle punte qua quindi uno lo metterò qui un altro lo metterò un altro lo metterò qui e andrò quindi a completare la decorazione di questo fiocco però mentre le parti interne le faccio morbide perché devono sedere all'interno del fiocco le parti esterne le faccio indurire li vado così ad incollare qui esternamente con la colla a caldo come se fossero dei dei boccioletti di fiori che sono che stanno cadendo dalla composizione centrale va bene ragazze allora che dire ah vi devo dire anche l'ultima cosa ecco qua allora ho anche un campanellone gigante bellissimo perché ne ho tre campanelloni giganti al costo di 18 ore e 50 l'uno qui ha già una piccolissima decorazione però qualora vi dovesse piacere come forma potete andare a decorare questo campanello con questi fiori tridimensionali di questi campanelli ne ho quattro l'ho già dipinto in bianco e lo potete diciamo anche questo anche questo suona all'interno il suo campanello e quindi eventualmente magari vi dovesse piacere anche questo come decorativo potete realizzare lo stesso elemento decorativo mettete qualche fiore decorativo qui sulla base e qualche bocciolino piccolino lo andate tipo questo che ho realizzato lo andate ad innestare nella parte superiore vi consiglio di lasciare sempre allora lo consiglio di lasciarlo sempre il colore rame la parte superiore e la parte inferiore invece di dipingerla con la love bianca va bene ragazze allora completo ho finito per questa sera vi saluto vi ringrazio tantissimo per la vostra presenza il prenotate i campanellini e se se avete bisogno ed altro vi inserisco ecco qui è stato inserito già il numero per gli ordini whatsapp per gli ordini invece online trovate tutto su www.decorazionearredocasa.com grazie tante per la vostra presenza siete sempre tanto 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 care abbiamo parlato di decorazioni abbiamo parlato di pasqua grazie lucy grazie a tutte è stato bello anche ritagliare una parentesi per questi per questo di queste decorazioni perché non non possiamo parlare sempre e solo di mobili grazie a tutte mi raccomando ragazze non dimenticate di condividere la diretta sulle vostre pagine sui vostri profili personali sui vostri gruppi di lavoro e iscrivetevi entrate nel nostro gruppo facebook chiuso che si chiama love paint e i laboratori artistici di nini all'interno di questo gruppo desidero che pubblichiate tutti i vostri lavori perché dal prossimo mese avvieremo dei concorsi all'interno dei quali realizzerete dopo aver realizzato le vostre lavorazioni le pubblicherete e chi avrà ricevuto il maggior numero di like riceverà in omaggio il kit del mese e quindi dovete assolutamente assolutamente prenotarvi inserirvi nel nostro gruppo di lavoro love paint e i laboratori artistici chiedete di essere inserite in quanto essendo un gruppo chiuso dovete attendere l'accettazione da parte dell'amministratore e cioè da parte mia e di chi amministra il gruppo e potete pubblicare i vostri lavori e alla fine del mese verrà premiato il lavoro più bello e invitando naturalmente a mettere un like sul vostro lavoro anche i vostri amici anche i vostri conoscenti in quanto comunque è importante che questi canali raggiungano tante 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 persone vi abbraccio forte e vi aspetto mi raccomando non dimenticate che la prossima settimana sarò presente solo in live giovedì non ci sarà una scelta da parte mia Silvia ma la scelta sarà data dal pubblico cioè chi raggiungerà il maggior numero di like vincerà il contest del mese e quindi sarà bellissimo per voi partecipare perché ho visto che siete molto molto brave e che sapete fare tante tante cose meravigliose vi abbraccio forte e vi saluto e vi aspetto per giovedì prossimo sempre alle 18 e 30 sulla mia pagina la Maison Nini e vi aspetto